In questa puntata, elezioni, il commento delle forze politiche. Sanità, respinta la mozione sulla riorganizzazione del servizio di guardia medica. Cultura al via la stagione del teatro di Buti. Elezioni, il commento dei consiglieri regionali della Toscana. C'è da lavorare su tanti fronti, perché la sconfitta nazionale è una sconfitta pesante e netta. Noi non possiamo dirci non solo soddisfatti, ma neanche possiamo dirci arresi di fronte al futuro. Perché noi abbiamo un ruolo importante. Siamo il secondo partito in Italia, in Toscana è il primo partito, seppur di poco. E seppur in alcune aree, non solo il centro-destra, ma anche Fratelli d'Italia, è diventato il primo partito anche in Toscana. Questo lo dobbiamo ben aver presente, ma non possiamo arrenderci. Noi abbiamo un ruolo grande a livello nazionale e un ruolo di governo importantissimo qui in Toscana, nei comuni e nella regione. I cittadini ci riconoscono ancora come il maggior punto di riferimento. Sappiamo che questa rendita, che noi abbiamo storica, la dobbiamo ogni giorno storica, perché le persone hanno una grande civiltà e anche hanno sempre riconosciuto il nostro buon governo, negli enti locali e nella regione. Il successo del centro-destra è andato anche oltre le aspettative in un collegio che è vero, era dato favorito per noi, ma questo significa che i cittadini, anche quelli che erano indecisi, hanno poi optato per dare la fiducia a quei partiti che possono andare a governare il paese con una maggioranza solida e andare a risolvere i problemi di tutto il territorio, non solo del mio collegio, ma toscano. Oggi Fratelli d'Italia è il primo partito al Senato in Toscana e quindi il Presidente Gianni ovviamente ne doveva prendere atto. Detto questo, auspico nell'interesse della regione e di tutte le province toscane che vi sia una collaborazione tra il Governatore Gianni e il Governo. Su questo non ho dubbi, perché il Governatore da questo punto di vista non credo abbia preclusioni ideologiche a confrontarsi col Governo. I risultati arriveranno in Toscana se la Toscana si confronterà ovviamente col Governo. E qualora, ma non credo, ripeto, non credo sia un atteggiamento che appartiene al Governatore Gianni, qualora si volesse far finta che il Governo nazionale non esiste e si continua ad andare avanti con la testa bassa perché la Toscana è l'ultima delle roccaforti, dove dentro ci stanno asserragliati quelli della riserva indiana, penso che si farebbe soltanto un danno a questa regione. Questa è la prova che il Movimento 5 Stelle gode di ottima salute e la guida del Presidente Conte è stata fondamentale per riprendere le fila di un'azione che abbiamo intenzione di rinforzare sui territori, che è quella dell'ascolto, della condivisione dei temi più critici e della risoluzione dei problemi a livello nazionale. La compagine toscana vedrà Ettore Liccheri, Andrea Quartini e Riccardo Ricciardi a rappresentarci persone di esperienza, di grande esperienza e di valore e partendo da queste basi e soprattutto da un programma che è molto attento a un'agenda sociale, ambientalista e progressista, siamo sicuri di poter fare anche dall'opposizione il meglio per la Toscana e per l'Italia. Per quanto riguarda la Toscana, dobbiamo dire innanzitutto come Lega che abbiamo eletto sei parlamentari, quattro deputati e due senatori e questo chiaramente ci riempie di soddisfazione nonostante il dato percentuale sia stato più basso delle aspettative. Per quanto riguarda le componenti amministrative, che siano quelle locali, nei singoli comuni o quella regionale, nel Consiglio della regione Toscana non credo che ci saranno degli stravolgimenti perché chiaramente sono dinamiche diverse. Abbiamo vissuto un'elezione politica con dinamiche nazionali e questo poi riguarda soprattutto chi governa la nostra regione e noi dell'opposizione, insomma, cercheremo di portare avanti quelle che sono le nostre istanze e quello che abbiamo fatto fino ad oggi in questi due anni, cercheremo di farlo in maniera più incisiva cercando anche dei collegamenti con il nuovo governo che finalmente sarà un governo di centro-destra dove chiaramente le politiche nazionali toccheranno anche i temi regionali e delle autonomie locali. Sì, in Toscana è un dato straordinario, essere al 10% denota che questa è una regione che chiede riformismo, che chiede scelte dove un'area liberal-democratica e popolare come la nostra sta trovando un grande riscontro contestualmente c'è il crollo del Partito Democratico e questo denota che vanno fatte delle scelte bisogna attuare una politica di governo in grado di assumersi responsabilità attuare i piani di programmazione fare scelte infrastrutturali stare accanto all'impresa e al lavoro che oggi parlano la stessa lingua e questo denota che abbiamo il diritto e il dovere di cambiare passo per esempio per quanto riguarda la gestione della sanità che non sta dando le risposte dovute agli operatori e né ai cittadini nel contempo a titolo personale è soddisfazione per aver raccolto 22.000 voti partivo da una dote cosiddetta di 10.700 siamo arrivati nel mio collegio a 22.000 voti più del doppio soltanto nel corso di due anni io credo che sia stato un lavoro straordinario che denotano l'attaccamento al territorio a quella Toscana del Sud sia in Agrosseto che comunque ha bisogno di risposte importanti per essere coerente con quello che ho detto non mi metto a fare nomi né per quanto riguarda il nazionale né per quanto riguarda il regionale certo il risultato del Partito Democratico anche in Toscana al di là di essersi difesi in questa situazione difficile che il risultato a livello nazionale non è un risultato brillante ma per la Toscana vale lo stesso che ho detto per quanto riguarda il livello nazionale io penso che noi dobbiamo avere il coraggio di dire come sono andate le cose anche le cose positive penso alla mia città a Pisa noi abbiamo fatto il più 4% rispetto alle politiche 2008 più 10% rispetto al sindaco Conti siamo a nove mesi dalle elezioni e sono convinto che ci sia la possibilità di giocarcela sia lì sia a Siena quindi esiste un tema e un problema serio a livello nazionale ma allo stesso tempo dobbiamo leggere anche i dati positivi io penso che quella lettura è stata una lettura di questo tipo che tiene conto di luci ed ombre Sanità respinta la mozione sulla riorganizzazione del servizio di guardia medica l'atto è stato presentato da Stefano Scaramelli Italia Viva e recepiva un emendamento apportato dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Irene Galletti il tema della riforma della continuità assistenziale della guardia medica è una cosa che si parla da anni già dalla scorsa legislatura era pronta una riforma perché noi di notte ogni guardia medica risponde in media a due telefonate qui si tratta di strutturare intanto un obbligo europeo è corretto di strutturare un numero unico per la continuità che è il 116-117 quindi questo comunque va fatto secondariamente c'è da ristrutturazione tutto il tema delle casse delle comunità in ogni zona ci sono almeno una casa della comunità AB che è aperta H24 quindi c'è una presenza che deve essere costruita e non ha senso mantenere una guardia medica e poi costruire una casa della comunità accanto quindi deve essere riassorbita dalla costruzione delle case delle comunità AB e le preoccupazioni per le aree periferiche l'assessore quando è venuto a presentarla in commissione ha detto chiaramente che nelle aree periferiche dove c'è una lontananza da qualsiasi presidio medio viene mantenuta la presenza fisica della guardia media quindi lanciare gli allarmi eccetera mi pare che sia assolutamente fuori contesto tra l'altro ancora non è stata messa in piedi perché c'è una fase di concertazione che la Giunta sta facendo quindi non si può che dire che è corretto sia perché i dati ci dicono bisogna riformarlo il tema della continuità assistenziale e tutti sono sempre stati d'accordo sia perché la procedura sta seguendo la Giunta è una procedura di grande concertazione e di grande ascolto prima della decisione ma è una mozione che difende il ruolo dei medici che ne attribuisce un significato e un valore alle professioni mediche, sanitarie e infermieristiche che vuole difendere il volontariato della Regione Toscana e che vuole tutelare il lavoro dei pronti soccorso della Toscana e quindi un impianto, quello di riforma che il Partito Democratico ha ipotizzato che è uscito negli organi di stampa in primis la Nazione ad agosto e poi a settembre ripreso da organi di stampa riteniamo che sia un errore io ho posto con questa mozione un voto del Consiglio regionale perché desse un indirizzo alla Giunta per fermarsi perché è una riforma che va bloccata che io a suo tempo avevo già bloccata ho avuto la forza e il coraggio di farlo quando ero Presidente della Commissione Sanità e quindi per cinque anni ho fatto in modo che questo non avvenisse adesso si ritorna e si tira fuori dai cassetti una vecchia impostazione che lede da una parte i territori rurali che impedisce ai cittadini toscani di avere un sistema di emergenza di urgenza adeguato alle proprie aspettative che mortifica il volontariato svilisce la professione dei medici e soprattutto rischia di intasare i pronti soccorso andare a togliere i medici di guarda nel territorio è un errore perché sono un presidio territoriale e il Covid ci ha detto quanto sia importante sostituire un medico con un call center vuol dire fondamentalmente svilire la professione sanitaria e medica inizia il 23 ottobre la stagione autunnale 2022 del Teatro di Buti a Pisa in cartellone 8 spettacoli che fino al 20 dicembre si alterneranno in orario serale e pomeridiano di luogo in luogo è il titolo della rassegna a sottolineare che le rappresentazioni a causa dei lavori di ristrutturazione del Teatro Francesco di Bartolo si terranno in due spazi diversi la Sala di Bartolo e il Teatro Vittoria a Cascine di Buti Questa è un'iniziativa a cui tengo molto in particolare Buti è un po' il paesino che mi ha adottato è arrivato in Toscana ed è un luogo vitale in cui il fermento culturale è importante tante le iniziative questa è la più importante raccontare la stagione teatrale che quest'anno sarà un po' particolare anche perché il teatro inizierà un'opera importante di ristrutturazione per renderlo più moderno più accogliente perché oggi il messaggio che vogliamo mandare di qui con forza è che più investiamo in cultura più costruiamo libertà più investiamo in cultura e più rendiamo i cittadini consapevoli di conoscere quello che accade quello che li circonda investire in una stagione teatrale in una realtà così piccola ma in cui il fermento culturale è forte dà il segno di qual è la strada da dover perseguire quindi un grazie a tutti a chi ogni giorno con fatica impegno prova a costruire una stagione di alto livello un grazie all'amministrazione comunale che ci crede sempre da tanti anni e penso che questo sia un messaggio forte che dobbiamo mandare costruire iniziative in momenti culturali teatrali diffusi sul nostro territorio ci sono tante esperienze belle bisogna provare a metterle in rete gli spettacoli che noi presentiamo sono per ora otto spettacoli e partano da ottobre fino a dicembre cominciamo con Luca Scarlini che noi tutti conosciamo che è questo picco della mirandola diciamo in tutti i settori che ha affrontato e poi abbiamo un incontro su Dostoievski su uno spettacolo che è legato a Fratelli Karamazov e poi ancora una che ha partecipato che è Sergio che è stata candidata al premio Ubu come migliore spettacolo teatrale ma non è tanto degli spettacoli che voglio parlare quanto del fatto che come ho già detto che va cercato questo teatro e di nuovo va trovato un senso profondo a andare davanti che non è quello del semplice del semplice intrattenimento che lo sa fare molto bene la televisione questo è chiaro noi siamo per qualcosa che ci tocchi nel profondo e tutti i nostri spettacoli ad esempio c'è di nuovo uno spettacolo di Cauteruccio che Firenze purtroppo per ragioni politiche ha abbandonato abbastanza che si propone a noi con l'ultimo nastro di Crap di Beckett ci soffiniamo poi dopo con Le Ariette che è uno spettacolo di questa compagnia teatrale che ama definirsi contadina e che in fondo durante lo spettacolo prepara anche una grande scena e questi sono otto titoli tutti abbastanza importanti Di luogo in luogo è la nuova stagione teatrale del Teatro di Buti la stagione 2022 che ritorna finalmente in presenza nei teatri è per noi una vera e propria ripartenza tutto tondo dal periodo che come tutti sappiamo abbiamo passato dal covid la caratteristica di questa stagione è quella che andrà a visitare due luoghi particolari teatrali e culturali del nostro comune e sarà un percorso un percorso fra i luoghi un percorso fra tematiche culturali e teatrali vi invitiamo tutti a seguire la nostra stagione perché ha veramente un grande livello teatrale e culturale ed è per noi un momento di grande vanto e di grande importanza per tutto il nostro territorio grazie a tutti grazie a tutti